A giugno 2017 il mio CIS Admin, la persona che segue il server, mi parla delle DAO. Mi dice, dopo il Bitcoin è nato l'Ethereum e sull'Ethereum ci puoi fare delle ditte, poi ve lo spiego meglio. Decentralizzate, cioè puoi fare delle ditte senza la ditta. Mi viene subito in mente che possiamo fare l'Airbnb senza Airbnb. Mi è rimasta questa cosa di Airbnb, non è che me la sono legata. Ho passato varie fasi con Airbnb, rabbia, delusione, poi li ho ammirati, adesso sono tornato un po' alla realtà, cioè che sono una corporazione e fanno benissimo il loro lavoro, nessun commento etico, però sono una corporazione. E non credo che siano più, anche Booking non sono più veramente, sono un po' pericolosi per noi adesso, sono troppo forti. Mi viene questa idea, scrivo il white paper, che cos'è il white paper? È un foglio, un pdf dove metti giù un programma, cioè l'idea la metti giù in maniera un po' organizzata e approfondita. Si usa il white paper perché il signore che ha fatto, la signora che ha fatto il bitcoin, cioè Nakamoto, ha fatto un white paper, non è che serve un white paper. Potresti fare una pagina internet però, siccome lui ha fatto il white paper, c'è questo uso di fare il white paper, un pdf. Poi a Firenze vado da Antonio e ne approfitto per parlare in giro, non ne parlo, non mi ha fatto parlare, ne parlo tra la gente. Ah è vero, si è intervenuto. Insomma ne parlo un po' in giro e qualcuno dei suoi, come si chiama, dei relatori? Dei suoi relatori, parla della blockchain, a che ne parlo anch'io con qualcuno lì nel pubblico e vedo che c'è tanto interesse. E a dicembre poi, ne parlo, diciamo il sito c'è ma è protetto da password perché voglio un po' migliorare la proposta. A dicembre lancio il progetto in maniera diciamo ufficiale, tolgo la password. Vi spiego, secondo me, quali sono le opportunità per voi, cioè siete qua, perché? Quale può essere il vantaggio per voi essere qua? E sono tre vantaggi specifici. Uno, commissioni ridotte nel momento in cui potrete finalmente o potremo finalmente caricare i nostri appartamenti in qualcuno di questi portali decentralizzati, perché di base sono portali a commissione zero. Non c'è nulla ancora, però ci si arriverà a breve, si spera. Quindi se, non so, a giugno c'è un portale dove potete caricare un appartamento e ricevere prenotazioni, per voi significa prenotazioni ridotte, un risparmio del 15%, più o meno. Un guadagno maggiore del 15% o meno se date anche uno sconto al cliente, commissioni ridotte. Maggiori prenotazioni. Perché maggiori prenotazioni? Perché chi è entrato in Airbnb all'inizio, per esempio, ha avuto un sacco di prenotazioni, perché c'erano pochi appartamenti e tanti clienti. In questi portali c'è ancora, c'è molta più gente che vuole prenotare rispetto al numero di appartamenti. Quindi c'è questa opportunità, ma è una finestra forse di pochi mesi, però è un'opportunità per avere tante prenotazioni per un certo periodo. E poi investimento di tempo o denaro e o denaro nei token di queste decentralizzate, di queste ICO. Poi il nome, vi spiegherò, non è facile decidere che nome dare, perché nessuna è veramente decentralizzata e non tutte fanno le ICO. Comunque poi vi spiego. Il discorso è investire tempo e denaro nei token. Cosa vuol dire? Se voi date una mano a una di queste aziende, anche a Trips, nel tradurre delle cose, nel fare un po' di pubblicità, nel fare un po' di design, vi vengono dati dei token, che sono tipo dei bitcomi, per capirci, a valore zero. Che se tutto va avanti bene, poi acquistano un certo valore in euro.